L'esercizio della penitenza quarissimale trova il suo compimento nel aiutare il prossimo. Quindi non tenere soltanto gli occhi volto verso l'alto, verso il cielo, verso Dio con la preghiera, ma come dicono le nostre tradizioni, la mente in Dio e gli occhi a terra per vedere le necessità dei fratelli. Ecco allora la carità che completa la nostra relazione di penitenza in preparazione alla Santa Pasqua. Il Salmo 29 leggiamo Il Signore mi ha ascoltato, ha avuto pietà di me. La misericordia di Dio, questo è il fine cui tento ogni digiuno e ogni preghiera in questo tempo di Quaresima. Ma quando la preghiera e il digiuno trovano la misericordia di Dio, allorché le nostre azioni penitenziali sono sostenute dalla bontà verso i bisognosi. In sostanza non si può scendere la preghiera, la mente in Dio e gli occhi a terra per aiutare i nostri fratelli. Questo è il mancello del Signore. Il profeta Isaia dice Bisogna elevare la mente in Dio con la preghiera, ma anche la testimonianza verso chi soffre nella povertà, oltre ogni barriera di nazione e di continenti. La preghiera vola verso l'altro. Le opere di carità, il loro significato, la loro azione, devono ugualmente come la preghiera volare verso l'alto, raggiungere tutti i continenti, tutte le nazioni. Non solo la preghiera deve arrivare in tutti i continenti, in tutte le nazioni, comprese le opere di carità. Perché quelli che sono lontane da noi, se sono bisognosi, hanno diritto al nostro aiuto e alla nostra sofferta opera di carità. Tutti siamo chiamati ad esercitare le opere di misericordia, rombere le catene del peccato, liberarsi da ogni tipo di scavitù, spezzare il pane della parola di Dio, riconturre all'ovile della chiesa, l'uomo traviato e alla pace con Dio e con i fratelli. Perdonare il prossimo. È chiaro che è più facile fare l'opera di beneficenza che perdonare, e anche viceversa. Il perdono si rivela maggiore altruismo e magnanimità. Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano. Io chiedo scuso, ma preferisco ripetere questi pensieri che sono lapidali, è la parola di Dio. Fate del bene a coloro che vi odiano. Pregate per quelli che vi perseguitelo e vi calugnano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Il perdono ci assicura la misericordia di Dio più di qualunque mortificazione o digiuno corporale. Questo è fondamentale. Vogliamo allora partecipare alla vita divina. Vogliamo veramente prepararci alla Santa Pasqua. È necessario spezzare il pane con il fratello bisognoso. È necessario vivere una vita intensa di preghiera. È chiaro, in modo particolare, dare il perdono ai nostri fratelli, anche per il male che ci hanno fatto.